Ciao a tutti e benvenuti a casa di Anna Felice, luogo in cui regna la praticità. Iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella delle notifiche. Oggi facciamo una lezione sul bucato. Ma prima, sigla! Il cestone dei panni sporchi può essere un nemico per chiunque, ma con le giuste dritte possiamo riuscire a fare un bucato perfetto in maniera molto semplice. Per evitare di trovare uno slip rosa, che magari originariamente era bianco, oppure una maglia da una misura XL a una misura small, dobbiamo capire che il bucato non è tutto uguale e quindi per ogni tipologia bisogna procedere con il giusto lavaggio. Partiamo dagli addosini. La prima cosa da capire è che il bucato lo possiamo dividere in tre macro-categorie, ovvero colore, tessuto, e infine se il bucato presenta o meno delle macchie, quindi tre macchie. Per quanto riguarda la categoria colore, possiamo avere indumenti bianchi, neri, e tutto il resto, ovvero colorati. Per quanto riguarda il tessuto, invece possiamo avere indumenti di cotone, sintetici, e quelli dedicati, ovvero lana e sera. Ovviamente questi sono principali categorie di indumenti che tutti quanti possiamo avere, quelli più generici che utilizziamo tutti. Per quanto riguarda le macchie, possiamo avere macchie, sì e macchie, no. Quindi ad esempio potremmo avere un bucato bianco di cotone e macchiato, oppure dei capi colorati, sintetici, e senza macchie. E così via, con tutte le possibili combinazioni. I lavaggi possono essere a mano, il lavatrice, e alcuni capi, soprattutto se macchiati, possono avere la necessità di essere pretrattati. Questo schema ci serve per capire quindi, come andare a lavare il nostro bucato, per essere pulito e profumato. Quindi è importante capire se abbiamo davanti una tovaglia macchiata di sumo, macchiata di vino, oppure una camicetta di serra che deve essere semplicemente risciacquata, o un capo di cotone che deve essere smacchiato, magari utilizzando della candeggina. Quindi è importante, il mondo del bucato è veramente basso. Nei prossimi video tutorial vedremo come lavare ogni tipologia di bucato. Cosa mi rimane da dire se non ordine e poizia sì, tempo libero sempre. Ciao a tutti, da casa Diana Felice.